Salve e benvenuti alla seconda parte della puntata speciale di Edilizia Sicura. Durante la quale diamo voce a diversi ospiti e esponenti dell'edilizia bolognese. Passo subito a presentarli. Allora diamo il benvenuto ad Antonio Mazza, imprenditore edile, presidente istituto professionale edile Iple CPTO Bologna. Poi abbiamo Maurizio Maurizzi, vicepresidente Iple CPTO e segretario Fillea CGL Bologna. Fabiano Bondioli, consigliere ordine ingegneri di Bologna. Mario Gaiani, direttore dell'istituto professionale edile. Lanfranco Massari, confcooperative Bologna. E Carmine Preziosi, direttore ANCE Bologna. Il rilancio del settore edile, Maurizzi. Che cosa può essere il risultare utile in questo ambito? Non dimentichiamo mai le migliaia di posti di lavoro persi in tutti questi anni. Ora è chiaro che per tornare ad occupare quegli edili che oggi sono disoccupati o sono in regime di ammortizzatori sociali, ormai in scadenza, bisogna pensare a quello che potrà essere l'edilizia del domani. E' chiaro che l'edilizia del domani non si può pensare a come lo è stata fino ad oggi. E' chiaro che il rilancio del settore avviene in prima battuta attraverso una riqualificazione del patrimonio esistente e a una messa in sicurezza sia dal punto di vista sismico che idrogeologico del territorio. E per fare questo è chiaro che servono risorse pubbliche e serve comunque, questa è una critica che faccio al sistema delle imprese tutte, loro sono ancora ancorati al vecchio sistema di costruire del nuovo. Ora del nuovo oggi non c'è più bisogno, c'è un patrimonio di invenduto enorme, bisogna pensare a come riqualificare il patrimonio esistente. Dove trovare le risorse? E' chiaro che le risorse, noi lo diciamo da tempo, patrimoniali sulle grandi ricchezze, che potrebbe permettere di rimettere in circolo una quantità di denaro consistente per poter far ripartire l'edilizia. Dopodiché c'è tutto il tema infrastrutturale, tema infrastrutturale che bisogna che qua Bologna decida e che Bologna decida in fretta perché c'è bisogno che i cantieri partano in fretta per tornare ad occupare, come dicevo prima, quelle migliaia di lavoratrici, di lavoratori edili che hanno perso il posto di lavoro. E' chiaro che un sistema infrastrutturale adeguato può attrarre investimenti consistenti. Basti pensare, cioè Bologna, il collegamento, aeroporto, stazione, fiera. Basta pensare alla tangenziale che quotidianamente è intasata e crea problemi di traffico enorme. Basta pensare a queste infrastrutture che avrebbero bisogno di un loro riamodernamento per capire che il lavoro per gli edili ci sarebbe e un lavoro che porterebbe benessere all'intero territorio. Non dimentichiamoci mai che quei lavoratori edili che sono rimasti a casa sono tutti quei lavoratori che l'Istituto Professionale Edile ha formato nel corso degli anni. E qua l'Istituto Edile è sempre formato da un punto di vista professionale e da un punto di vista della sicurezza, i lavoratori edili. Ora, cosa può fare l'Istituto Edile? E' chiaro che rispetto a quello che sarà l'edilizia un domani l'Istituto Edile deve sempre pensare più frequentemente a che tipo di formazione dare a quelle figure professionali per poterle ricollocare in un mercato pensando che l'edilizia del domani sarà diversa da quella che è stata fino ad oggi. sulla sicurezza è chiaro che bisogna continuare a fare formazione su questo territorio c'è un buon sistema anche da parte degli enti preposti di controllo dal punto di vista della sicurezza sicuramente gli infortuni sono calati perché si è fatto un buon lavoro ma perché le ore lavorate rispetto al passato sono notevolmente diminuite. e quindi di conseguenza minor lavoro e minori infortuni. Inoltre c'è tutto il sistema degli appalti anche pubblici che va rivisto e non bisogna continuare ad assegnare anche appalti pubblici con la logica del massimo ribasso perché massimo ribasso vuol dire sostanzialmente abbassamento delle tutele anche perché poi quando le imprese si trovano a vincere degli appalti con la logica del massimo ribasso da qualche parte devono tagliare e purtroppo uno dei punti dove spesso si taglia è quello della sicurezza sul lavoro quindi passare anche da una logica del massimo ribasso a una logica dell'offerta economicamente più vantaggiosa. a 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 giudicatrice che è quindi anche orientabile non penso di dover raggiungere altro per farmi capire e per questo noi ci auguriamo che la riforma sui pubblici appalti e tenga conto di questo cioè di questi fatti della della storia del dato di fatto di realtà e prevedo alcuni meccanismi per esempio commissioni terze rispetto alla stazione appaltante o altri sistemi di che garantiscono che garantiscono trasparenza efficienza e vera concorrenza fra le imprese nei pubblici appalti un punto di vista interno al istituto professionale di ILE CPTO a Bologna Gaiani un commento in merito noi abbiamo un'impressione che che sta un po' girando in questi tempi che di questo settore si possa fare quasi a meno e che che la considerazione dei problemi e delle professionalità che richiede questo settore siano di secondo livello credo che il nostro impegno quanto meno il nostro impegno anche attraverso questa trasmissione fatto di avere testimoni del nostro settore sia oggi importante sul sul punto che questo settore è un settore comunque strategico e che dal punto di vista lavorativo offre delle possibilità che altri settori non danno noi diciamo spesso ai nostri corsisti che questo è uno dei pochi lavori in cui uno passando per strada può dire questo l'ho fatto io e non è cosa da poco noi riteniamo che non sia cosa da poco questa scuola che si avvia a 70 anni è la prova che quando le parti sociali insieme collaborano per la crescita del settore si costruiscono in edilizia è quasi sottinteso che si costruisca e si fa manutenzione delle forze delle risorse umane che si hanno per una crescita su temi nuovi oggi questo è il punto vero è un edilizia che cambierà sicuramente che già sta cambiando noi abbiamo introdotto un po' sull'onda anche dei recenti terremoti che hanno colpito anche il nostro territorio tutta una serie di modifiche nei percorsi dei corsi muratori capisquadre eccetera abbiamo visto che c'è una grande adesione c'è un grande interesse c'è la necessità attraverso la scuola di poter avere quelle informazioni professionali che altrimenti difficilmente si riescono ad avere in una logica di sicurezza operare bene operare in sicurezza per noi è sempre più la stessa identica cosa se si lavora bene si lavora in sicurezza se si lavora in sicurezza si può lavorare bene altrimenti a volte non si lavora nemmeno sui temi innovativi dell'energia del recupero anche se può sembrare una contraddizione ma è veramente probabilmente la tendenza tutti gli studi ci segnalano che lo sviluppo dell'edilizia sarà sicuramente non nel nuovo ma nel recupero dell'esistente in una città come la nostra indubbiamente ricca di possibilità di recupero il nostro istituto è impegnato quotidianamente e devo dire che negli ultimi anni anche con l'avvio di corsi per giovani per l'obbligo scolastico cioè ragazzi che hanno meno di 18 anni che frequentano la scuola per arrivare a una qualifica abbiamo rivisto giovani avvicinarsi al nostro settore e questo sicuramente un segnale necessario per qualsiasi sviluppo di nuove edilizie per il futuro bene ora prego la regia di mandare in onda un contributo che arricchisce la nostra puntata io volevo far presente un altro problema sono sicuramente d'accordo con quanto detto finora da Gaiani in particolare merito soprattutto alla strategicità della formazione anche in una situazione di crisi quindi è sicuramente in un momento di crisi l'occasione di formare in particolare poi sulla sicurezza le proprie maestranze è un'occasione d'oro e un'impresa che lavora in sicurezza è sicuramente un'impresa di tutti i problemi strutturali che sono emersi un'impresa che ha un vantaggio competitivo soprattutto nel momento in cui le modalità di aggiudicazione dell'appalto finalmente tenessero conto anche di questo aspetto io mi chiedo per esempio che fine ha fatto quel meccanismo di valorizzazione che può essere la patente appunti delle imprese che aveva preso avvio anche sul piano normativo quasi cinque anni fa e io mi chiedo soprattutto come facciamo noi professionisti poi a dare una mano e rimango sul tema della sicurezza a migliorare le condizioni di sicurezza di un cantiere o di un'impresa nel momento in cui abbiamo delle normative che cercano la semplificazione sul piano nazionale e invece a livello locale cercano invece la complicazione faccio un esempio come professionisti noi dobbiamo preoccuparci del fatto che nel momento in cui si realizza un nuovo edificio vanno realizzati tutta una serie di installazioni a protezione della futura caduta dall'alto nell'ambito di manutenzione e su questo abbiamo una norma nazionale che definisce in maniera generica ma comunque puntuale l'obbligo nel momento in cui ci spostiamo nelle varie regioni d'italia ci ritroviamo a incontrare leggi regionali indicazioni operative che sono molto diverse tra loro in materia lo stesso troviamo per esempio nella valutazione dell'operato del professionista in quanto coordinatore della sicurezza per esempio addirittura per esempio noi a livello di federazione degli ordini degli ingegneri provinciali della regione Emilia Romagna abbiamo emanato una linea guida in collaborazione tra l'altro con la Toscana su come come professionisti dovremmo esercitare il ruolo di coordinatore ma quando poi si incontrano sul campo gli organi di vigilanza che dipendono se ragioniamo in termini di direzione territoriale del lavoro da un organismo di tipo nazionale mentre se ragioniamo in termini di ASL dipendono da un governance regionale troviamo atteggiamenti diversi ecco anche questo secondo me è un aspetto di cui occorre tenere conto grazie qualcuno vuole aggiungere qualcosa direttore Mato mi è venuto in mente un concetto molto importante cioè oggi si parla della riforma del sistema scolastico perché si dice come se non lo sapevamo anche prima che la scuola la buona scuola è fondamentale per una nazione che vuole riprendere che vuole progredire e di riforma c'è bisogno ecco il sistema idile a livello nazionale direi l'unico esempio in cui il sistema delle scuole professionali delle scuole idile è esistente in tutto il territorio nazionale quindi noi stiamo per compiere 70 anni ma ci sono in tutte le province italiane delle scuole idili che fanno ovviamente con delle diversità eccetera quello che noi facciamo qui e questo noi lo facciamo qui sul nostro territorio e qualcuno lo ha già citato prima insieme a tutte le associazioni di imprenditori del settore idile e naturalmente insieme ai sindacati è una testimonianza del lavorare insieme insieme per lo stesso sistema e questo è un qualche cosa che esiste a livello nazionale quindi noi forse la buona formazione abbiamo sempre capito che dobbiamo farla e quindi l'impegno che abbiamo assunto dal dopoguerra in avanti nel nostro settore a livello nazionale è un impegno che vogliamo continuare a portare avanti perché torno a dire una cosa che ho detto prima che ha detto anche poco fa il nostro direttore vediamo che i giovani di questo lavoro potenzialmente si possono entusiasmare anche oggi perché il fatto di potere avere un lavoro nel quale effettivamente quello che realizzi lo vedi girando per le strade e che durerà probabilmente anzi quasi certamente di più della nostra vita beh questo è un elemento di grande fascino del nostro settore che credo che oggi quindi dobbiamo uscire dalla logica del... i giovani sarebbero disponibili oggi ad uscire dalla logica del dire se non ho niente da fare nella vita vado a lavorare in edilizia no scelgo di andare in edilizia perché è un mestiere nobile e importantissimo se hai tra i 15 e i 18 anni e vuoi costruire il futuro con le tue mani la qualifica professionale di operatore edile alle strutture è quello che fa per te imparerai le materie di cultura generali utili nella vita e nel lavoro avrai la possibilità di imparare sperimentandoti direttamente sul campo nel nostro laboratorio e in stage presso aziende utilizzando correttamente le principali attrezzature di cantiere all'istituto edile di bologna imparerai le materie che ti faranno entrare nel mondo del lavoro con professionalità iscriviti alla scuola di operatore edile alle strutture chiama l'istituto edile 051 32 76 05 www.edili.com Nella trasmissione in questa puntata abbiamo toccato varie tematiche quindi non solo sicurezza è un po' un anticipo di quanto potrebbe avvenire in futuro infatti la nostra trasmissione edilizia sicura diciamo sta cambiando Gaiani un'anticipazione sulla prossima stagione Allora l'idea che che stiamo sviluppando è di ampliare il confine il primo confine è stato per anni solo il tema della sicurezza che manteremo ovviamente nelle prossime trasmissioni ma allargando alle informazioni sul nostro settore noi ci siamo accorti per esempio che molte cose che succedono nel nostro settore che da parte delle associazioni imprenditoriali sindacali dalle categorie professionali eccetera sono poco conosciute quindi vorremmo usare questo strumento che è questa trasmissione che è ancora unica in Italia di questo tipo per fare sentire maggiormente le voci di chi opera nel nostro settore questo proprio per ribadire che questo è un settore che è sicuramente strategico a cui noi ovviamente teniamo parecchio ma per dare voce alle iniziative per dare voce ai pareri per approfondire temi per in qualche modo far sentire la presenza di certe istituzioni dell'Ine e dell'Ims dell'ASL eccetera c'è un mondo complesso e articolato in edilizia che ruota anche ovviamente intorno al tema della sicurezza perché questo in me è un punto dolente ancora del nostro settore non solo del nostro settore ma anche del nostro settore ma il tema della professionalità della qualità della produzione del dove va il nostro settore verso cosa va il nostro settore credo che possa interessare il nostro pubblico e speriamo di coinvolgerlo nelle prossime puntate l'istituto professionale edile Iple CPTO Bologna infatti si occupa anche di questo di fare informazione proprio sul mondo del lavoro estendendo dalla sicurezza ad altri team siamo giunti al termine di questa puntata io ringrazio gli ospiti che sono intervenuti e come sempre ringrazio voi che ci avete seguiti per informazioni e approfondimenti potete seguirci sui nostri social o consultare il sito www.edili.com grazie e arrivederci grazie a tutti